Massimiliano Valeriani, consigliere regionale Partito Democratico, nonché vicepresidente del Consiglio regionale, sta per iniziare la seduta qui a Via della Pisana, però noi approfittiamo della presenza di Valeriani per capire un po' di quello che sta accadendo nell'informazione in generale e soprattutto quanto sta accadendo nell'Unità e in Europa, i due giornali tipici del PD. Allora, se arriverà a questo fatto che non conterà più l'ideale, niente, la Santa Anche sarà l'unica che potrà acquistare insieme alla Paola Ferrari l'Unità? Oddio, in un mercato bizzarro come questo se ne leggono di tutti i colori e questa non è neanche tra le più clamorose. Io mi auguro di no, perché il giornale fondato da Antonio Gramsci meriterebbe un editore un po' più amico, un po' più schierato politicamente, quindi la figura della Santa Anchea sostanzialmente non è in linea con questa esigenza, con questo profilo ideale. Il tema vero è che una testata così importante, così gloriosa, così storica per la sinistra di questo Paese avrebbe bisogno di un progetto editoriale di grande respiro, in linea anche con i grandi cambiamenti politici che sono accorsi negli ultimi anni. Il tempo è maturo per avere un grande giornale, secondo me, del PD, non proprio il bollettino del PD, ma di riferimento del PD, un partito che oramai va ben oltre il 30% dei consensi nel Paese, e quindi penso che le crisi dell'Unità e di Europa debbano trovare una sintesi, magari la creazione di un giornale solo con un editore puro, un editore che dia delle garanzie editoriali, siamo certi, perché un giornale come l'Unità non può avere stravolgimenti dal punto di vista politico-editoriale della collocazione, sarebbe una cosa veramente senza senso. Se deve vivere in quel modo preferisco che non viva più. Senta Valeriani, però non è la prima volta che l'Unità è in crisi, voglio dire che sono diversi anni che si parla di liquidazione, si sono affacciati i Soro, gli Angelucci, eccetera, eccetera, tante persone. Però c'è qualcosa che non quadra, mi sembra che è risolta l'Unità quando fu direttore Walter Beltroni che si inventò la doppia Unità. Che cos'è che non va? Cioè gli iscritti al PD non sono come gli iscritti del PC che automaticamente ogni giorno devono comprare l'Unità. La crisi dell'Unità è una crisi antica, una crisi editoriale, ma io penso anche di collocazione politica dentro lo scenario in movimento negli ultimi vent'anni. È evidente che negli ultimi anni c'è stata una direzione editoriale un po' troppo spostata a sinistra, radicale, penso alla gestione di Padellaro che ha fatto perdere un po' il rapporto con il mondo naturale del giornale, quel mondo di sinistra, centrosinistra, che in gran parte aveva scommesso sul Partito Democratico e che per una fase ha avuto una difficoltà oggettiva a sentire quel giornale come un punto di riferimento editoriale. Noi avremmo bisogno oggi, secondo me, di un editore puro che individui uno spazio politico che secondo me c'è tra il Corriere della Sera e Repubblica per dare a questo giornale un forte ancoraggio politico ideale a un partito che oggi è il principale partito del centrosinistra con la sua autonomia, con la sua sensibilità, ma che comunque lì sta. Bisognerebbe individuare colui o coloro che sono in grado di supportare uno sforzo editoriale, ma anche politico che va in quella direzione. Poi non c'è dubbio che l'Unità purtroppo sconta anche i limiti mai risolti di un giornale. Però non riesce a vendere 20.000 copie che sarebbero il punto di equilibrio poi economico? Il PC non c'è più, quella storia non c'è più e quindi quelle garanzie che poteva dare un partito forte di massa radicato come il PC per un giornale di partito come era all'epoca l'Unità, oggi in un mercato libero, in un quadro politico completamente diverso, non le possono garantire più nessuno le copie assicurate. Quindi le copie vanno conquistate sul campo con un progetto editoriale credibile e penso che i troppi cambiamenti anche editoriali che ha subito quella testata negli ultimi anni l'abbiano un po' in debolità. E quindi bisognerebbe, sperando che fosse l'ultima, riniziare una nuova stagione che possa essere più chiara e più ferma dal punto di vista della sua collocazione. Certo che il progetto della Santa Anche non c'entra nulla. Sì ma sembra sempre ricevibile, però la situazione è questa, che i commissari liquidatori non hanno avuto ulteriori offerte. Non si capisce, Daniela Santachè ha una società di concessione della pubblicità dove prenda tutti questi soldi insieme a una pala a Ferrari che è una semplice conduttrice televisiva. Chi dia la data di tutti questi soldi alla Santachè? La Santachè non ha risposto, però se il commissario liquidatore alla fine di luglio vede l'unica offerta sarà costretto a venderla. Non so per quanto. Non posso rispondere a questa domanda, mi spiace. Io non comprerò più l'unità, nel senso che se quella deve essere la nuova proprietà preferisco che il giornale... Addirittura che non esca più l'unità, già abbiamo visto la fine di Paese Sera. No, però non si può chiedere a un cittadino di sinistra che ha le sue convinzioni profonde, radicate, che cosa si prova a vedere un giornale come quello che fa parte della mia storia familiare, dei miei ricordi più belli di formazione politica in mano a un personaggio politico, legittimamente con quel profilo, legittimamente con quelle sue caratterizzazioni, essere il nuovo proprietario dell'unità. Ecco, questo non lo si può chiedere. Se deve essere quello l'approdo, perché deve essere un commissario liquidatore a decidere, mi lasci la mia libertà di non comprare più l'unità. Questo almeno, se posso permettermelo, lo vorrei dire in modo molto chiaro. Però, Valeriano, mi sembra che il termine unità sia un po' sparendo. Cioè, adesso, quest'anno, forse viene riconquistato, che si richiama alla festa dell'unità. Però, fino a due o tre anni fa, ci si pensava, non si chiamava più festa dell'unità, ma festa democratica. Cioè, sto termine unità sta sparendo. Ora, invece, sembra che si tente a riconquistarlo. Quindi, anche il giornale, ricordiamo un'ultima cosa, che prima i contributi delle teorie venivano dati sulle copie tirate, ora sulle copie vendute. Questo è il dilemma, il problema. Sì, io non sono così pessimista, perché il segretario del partito, nonché il premier Renzi, invece, ha dato grandi speranze. È il momento giusto per riscoprire brand consolidati, consolidati come, appunto, la festa dell'unità. Noi abbiamo avuto... Stanno si chiama festa dell'unità, fino all'altro anno no. Abbiamo avuto discussioni anche laceranti al nostro interno su come si dovessero chiamare le nostre feste estive. e il segretario oggi ha detto, dopo anni di balletti senza ragione, che quello è un nome familiare per milioni di persone e non avrebbe senso cambiargli proprio adesso il nome. E quindi le feste dell'unità sono tornate di moda, proprio come feste dell'unità, ma anche sull'unità come giornale. Il segretario ha detto che è il momento di pensare a un giornale unico con quel nome, perché quel nome rievoca cose belle, importanti della storia della nostra Repubblica. non si capisce perché dobbiamo inventarne altri. Quindi mi auguro che l'auspicio del presidente Renzi possa essere raccolto da qualche editore puro che lasci il giornale nella sua collocazione politica naturale. Ecco, questo è l'auspicio che faccio all'unità. L'ultima domanda è... Non sono d'accordo a riunire Europa, unità, a farne un giornale unico, anche perché il titolo non potrebbe essere Europa, però dovrebbe essere l'unità. Forse le redazioni non sono compatibili? Abbiamo fatto il Partito Democratico, si può fare anche un giornale unico. Mi lasci dire che è stato molto più complicato fare un grande partito riformista in questo Paese che mettesse insieme culture, sensibilità, gruppi dirigenti, abitudini completamente diverse, solo si può fare tranquillamente senza lo stesso sforzo con due giornali. Ecco, mi sembrano sacchi di resistenza francamente risolvibili. Per ora continuo a comprare l'unità? Sempre.